Allora, in attesa di fare la denuncia e cercare di capire quello che è il software, cosa ho fatto? Ho scritto un piccolo snippet javascript, che è questo qua, questo, e con questo javascript che cosa controllo? Controllo se il sito è questo, studi di falafood.ga, sia così, gli spara video un messaggio e fermo il caricamento della pagina, l'ho minificato, l'ho messo nell'overall leader, qua all'inizio proprio dopo il doc tap html, l'ho caricato, loro se lo sono presi in pancia, e questo è il risultato, andando sul loro sito, si sono presi questo mio script, ovviamente, prendendosi questo script, gli ho bloccato il caricamento di tutto, della pagina, quindi nel body non c'è più nulla, c'è soltanto il caro e bel messaggio che gli ho lasciato io. Speriamo che funzioni questa cosa, forse è una toppa momentanea, ma per il momento questa è l'unica cosa che sono riuscito a fare per bloccare questa clonazione barra phishing del forum analogica.it, quindi posso riattivarlo, il forum, e ora spiegherò a tutti i ragazzi, i ragazzi del forum, quello che ho fatto per cercare di bloccare questa cosa e tutelarli. Speriamo bene, vi tengo aggiornati, ciao.